ciao ragazzi sigma disinnesco con persone reali chissà che cosa succederà bene e proviamoci ben trovato ma i caricamenti sono questi quelli dei tempi antichi quelle di poste italiane anzi mi ha caricato molto velocemente questa volta non lo fa scegliere non lo fa scegliere niente vediamo questo tizio con la vb 2 contro 2 inizia tutte con la k inizia inizia no ho fatto schifo ho fatto bene pena bravo il coglione un pezzo si chiede di bannare porca puttana manco mi spunti no 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 bella la sono giocata benissimo questa volta non è il coglione se tolgo una vita manchiai testa tutto bene va bene i camper ancora non li vogliamo perfetto questo col fucile migliore del mondo complimenti per la scelta vediamo cosa succede perfetto ne manca uno ragazzi dai 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 attento attento porca puttana giusto giusto è uscito quello con il fucile da cicchino migliore del mondo 16 74 vediamo chi vincerà attento fucile pure pure non solo mamma non è dai 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 defusala 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 no vabbè che schifo ragazzi che schifo ragazzi pessima sta cosa veramente sono disgustato ma quanti minchiaccia ne è siamo un casino ragazzi ah lui ce l'ho ragazzi ah lui ce l'ho ce l'ho ce la faremo contro contro3 in realtà dai dai ma che mi chi so spara da ricarica nel momento dell'azione come che abbiamo vinto non lo so bene bene bella manca uno ragazzi uno contro tre ce la dovremmo fare teoricamente voglio vedere voglio proprio vedere ora questo si prende il fucile da cecchino uno fuori no bravissimo abbiamo vinto ragazzi bello va bene ragazzi basta ci vediamo una prossima volta ciao a tutti ragazzi ciao a tutti